Non ho abbastanza tempo, questa è una frase che si sente veramente spesso e oggi rispondo a Luisa che mi chiede Ciao Massimo, come fai a trovare il tempo per registrare tutti questi video e scrivere le pillole? Io mi ritrovo sempre senza tempo e ho un sacco di cose che vorrei fare ma non ne ho veramente il tempo. Hai qualche consiglio? Grazie. Ora questa è una domanda che secondo me si pongono veramente tutti perché a tutti sembra di non avere tempo. Io in primis non sono assolutamente un asso nella gestione del tempo, però voglio approfittare della domanda di Luisa per parlare di due cose. La prima è che, come diceva qualcuno, non è che non abbiamo abbastanza tempo ma ne sperchiamo troppo. La seconda, che ripete spesso il mio amico Mirko Bose, è che non dovremmo dire non ho tempo, piuttosto questa cosa non era abbastanza importante da dedicargli il mio tempo. E ragionando in questo modo cambia completamente il nostro modo di vedere ciò che è davvero importante nella nostra vita perché se ripensiamo un po' alla nostra quotidianità ci rendiamo conto che a volte abbiamo degli imprevisti qualcosa che siamo costretti a fare, magari una visita, un appuntamento, qualcosa veramente di imprevisto e guarda caso riusciamo a trovare il tempo per quello perché è semplicemente perché è più importante. Gli altri due mangiatori di tempo, se così si possono definire, personalmente sono la disorganizzazione e le costanti distrazioni a cui siamo sottoposti ogni giorno, giorno dopo giorno, in continuazione. Per questo voglio suggerire una tecnica che mi ha consigliato il mio amico Mirko Bose che trovi anche nel suo corso, dopo te ne parlerò perché è veramente una bomba ed è quella di iniziare a tenere traccia di tutto ciò che facciamo la mattina appena svegli. Lui consiglia di prendere una piccola agenda e dal momento che ci svegliamo la mattina iniziamo a scrivere sette e mezza sveglia, benissimo, otto, otto e dieci mi sono alluato i denti e mi sono vestito, otto e dieci, otto e trenta ho fatto colazione, otto e trenta, nove sono andato a camminare e così via e in questo modo ci renderemo conto di come effettivamente il nostro tempo viene impegnato e questo è incredibile a quanto effettivamente ci permetta già di migliorare le nostre performance solo per il fatto di tenerle monitorate. Quindi è un esercizio che consiglio assolutamente e ringrazio Mirko per avermelo insegnato. Poi per concludere, visto che questo non è il mio settore ma Mirko ne è un vero maestro, voglio assolutamente consigliare a tutti questo corso Metodo produttività esagerata di Mirko Bose. Lo potete cercare su Google, magari vi metto il link in descrizione così lo potete trovare. È un corso che a mio avviso è rivoluzionario perché a differenza dagli altri corsi di gestione del tempo che personalmente sono sempre rimasti un pochino troppo teorici, Mirko ti costringe a fare degli esercizi e ti fa capire alcune dinamiche di come noi ci comportiamo e di come una parte di noi, una parte veramente profonda, tenda a cadere, a fare le cose facili, quelle che richiedono meno sforzo invece di fare le cose veramente efficaci. E oltre a tutte le tecniche di gestione che sono incredibilmente efficaci, la cosa che mi ha colpito veramente è che riesci a spiegare in maniera chiara ed è il primo corso in assoluto di gestione del tempo che effettivamente ha questo, ti fa capire perché e come tendi a perdere tempo, come tendi a fare le cose che non sono importanti perché magari sono più facili, come dicevo poco fa, e altri comportamenti, non so se definire inconsci, comunque altri comportamenti che teniamo senza veramente rendercene conto che ci portano a perdere tempo, tra virgolette, o meglio a non ottimizzarlo. Per questo, se siete nella situazione di Luisa, che vi sembra di non avere tempo, io vi consiglio assolutamente metodo produttività esagerata perché è veramente una bomba e vi permetterà, se vi mettete in pratica, perché mi ricordo abbastanza duro, fare degli esercizi e bisogna un pochino uscire dalla propria zona di comfort, però ne otterrete veramente tantissimi risultati. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, solo con l'esercizio di iniziare a segnare tutto quello che facciamo in agenda, io personalmente mi sono reso conto di essere diventato più produttivo, perché ci rendiamo conto che tendiamo a perdere tempo per delle cose che sono completamente inutili e nemmeno ce ne rendiamo conto. Voglio fare un esempio stupido, vai in bagno, ti metti a guardare Facebook, magari stai in bagno dieci minuti o mezz'ora. Ecco, è una mezz'ora che è effettivamente magari buttata via, potevamo sfruttarla in un altro modo. Oppure iniziamo a tenere traccia anche delle distrazioni. Stai scrivendo un articolo, benissimo. Inizia alle dieci, alle dieci e dieci ti arriva una telefonata, quindi segni, mi è arrivata una telefonata, e mi chiudi alle dieci e trenta. Riparti alle dieci e quaranta, ti arriva un'altra telefonata, segni, telefonata. E in questo modo ti rendi conto che un'operazione che magari richiedeva, non so, mezz'ora, alla fine di tutto te ne ha chieste due. Ed è una cosa incredibile perché ci rendiamo conto di quanto tempo sperchiamo tutti i giorni. E considerando che il tempo è l'unica risorsa veramente che non possiamo comprare, non possiamo arrivare indietro, a mio avviso è la più preziosa del mondo. Quindi riuscire a ottimizzare le nostre giornate per essere più produttivi o, allo stesso tempo, per avere più tempo libero, perché potresti iniziare a pensare, cosa che sto cercando di fare io personalmente, di ottimizzare 4-5 ore alla mattina, quindi lavorare magari dalle 8, dalle 9, all'1 alle 2, e poi avere la seconda parte della giornata libera. È tanta roba se riusciamo a farlo. Quindi io consiglio assolutamente di, perlomeno, fare questo esercizio, di segnarsi tutte le cose che facciamo, tutte le attività giorno per giorno, perché ti farà veramente spalancare gli occhi e ti sentirai un pochino un pirla, diciamo la verità, perché dici, aspetta, ma io sto buttando via un sacco di tempo e mi sembra di non avere tempo di fare nulla. E quando abbiamo i numeri davanti non abbiamo più scuse, ci rendiamo conto che tutto dipende solo ed esclusivamente da noi. Per cui, se siete in questa situazione, assolutamente metodo produttività esagerata. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!